Tutti le tv più potenti al mondo, tenetemi pronti, adesso mi sto rilassando un attimo, ma adesso sto tornando, in ferocità inaudita, aspetta, troviamo, chiediamo qua, chiediamo qua, chiediamo qua, permesso, scusate, buonasera, scusami, hai visto, hai visto sto ragazzo, tu lo conosci? Ma chissà è un scema, poi sto lavorando, tu conosci questa persona? Stai tu magnato, ma no, mi andrò ne lo conosco, andiamo, 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 ma chissà è venuto o no? Ma dov'è, ma dov'è sto scema? C'è qualche tigre qua a Zurico che gli voglio fare una seratina? Andrè che cazzo fanno stasera in una macchina, poi che cazzo fanno? Tanto ho una mammignote, noi a pagamento, come pagamo perché non vogliamo rottare di coglioni, paghi la cena, poi ti fai la sega, cioè noi comunque volevamo subito spruzzare, poi ognuno ha a casa sua, cioè non volevamo perdere tempo, quindi che cazzo fanno? Andrè, andiamo a cena e...